Grande serata di volley al Palasport di Prato Vecchio. L'arrivo della capolista Montesport di Montespertoli ha acceso gli interessi degli appassionati e non c'è dubbio che la pallavolo nel centro alto casentinese sia un qualcosa che supera i semplici connotati di un evento sportivo, visto l'enorme richiamo che le ragazze di latini e sordi hanno in zona. Il 3-1 finale premia la freddezza delle ospiti che nella prima frazione hanno dovuto fare i conti con la leggiadria e l'entusiasmo del sestetto casentinese. Infatti le ragazze dell'Arnopoli si sono aggiudicate il primo set al termine di una estenuante frazione che si è conclusa con il parziale di 29-27. Una prima parte dunque bellissima con una lotta punto a punto con tanto di muri in contromano. La regia di Dalmaso, Carrisi e del Libero Ronconi è stata continua alla pari delle bordate in via centrale di Matrullo e Millico, l'Antonelli che ha elettrizzato il pubblico con le sue schiacciate. Poi gradualmente i valori sono venuti a galla e la formazione ospita ha iniziato a giocare e come sai non è un caso che sia capolista imbattuta. Alla fine il punteggio è riso alla formazione senese che con Casini ha fatto la differenza soprattutto nel secondo set con le Prato Vecchine arrivate a quota 22. La sconfitta però non intacca la quarta posizione in classifica. Prossimo appuntamento a Calenzano sabato 21. Prossimo appuntamento a Calenzano sabato 21.